Il blocco dell'attività del ballo anche per le sagre, no gastronomiche, feste patronali crea una situazione tragica. 15.000 musicisti delle orchestre da ballo rimarranno senza lavoro anche quest'estate, dopo 15 mesi di fermo totale. Migliaia di orchestre da ballo sono al collasso. Stiamo parlando di vere imprese con costi da sostenere e dipendenti. Per questo motivo venerdì 28 maggio scenderemo in piazza, a Piacenza, con una manifestazione pacifica per chiedere al governo l'immediata riapertura dell'attività del ballo, adottando protocolli adeguati come tutte le altre attività. Moreno Conficoni, presidente di Unione Obis.